Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andremo a vedere un altro boss monster sempre più grande Fondona per noi ha sempre mostri più grossi, tutti livello 12 Tutti, si serve magari un Xyz livello 12 perché non rank 12 perché non l'hanno messo Un sincrono livello 12, tutti giganteschi Allora vabbè andiamo a vedere il nuovo boss di Valiance Prima di iniziare come sempre mi invito a scrivere il nostro canale per rimanere sempre a giocare con il mondo di Yugi E non solo, grazie mille Il nuovo boss potrebbe essere molto interessante Allora Arctus XII Valiance of the wireframe Ibis Arctus XII Certo, nomi un po' più corti Corti Poteva essere Arctus XII Valiance Arctus XII No Vabbè, vabbè Allora, livello 12, 3000-3000 Pendolo 12 Effetto pendolo Attiviamo uno in sequenza Specielliamo questa carta nella nostra main zone di fronte a lei Scegliamo oppure scegliamo un mostro nella zona mostri main E lo muoviamo in una zona adiacente E' molto buono perché sappiamo che i Valiance tutte le volte che teleposizioni in zone Triggerano effetti, fanno plus, fanno pure il caffè a sentimento Quindi ok Vuole due materiali di livello 5 o superiore Valiance Può essere evocato da coperto dall'extra deck Tributando i materiali sul terreno Materiali menzionali sul terreno Quindi non serve neanche polimentazione o magie per evocarlo Quindi molto bene Andiamo a vedere i suoi effetti Effetto rapido Possiamo cambiare la posizione di due mostri sul terreno O nel terreno dell'avversario Ok Va bene Oddio è carino Perché magari Metti con Metti con Vabbè lasciamo perdere Non mi viene il nome Se questa carta Se una carta viene mossa In un'altra zona mostro Possiamo spaccare una carta sul terreno Quindi ok Va in combinazione Con ogni Valiance che si sposta Quindi c'è sempre uno spacchino Uno spacchino Libero Quindi ok Cambio posizione Spacca roba In più puoi Rievocarlo tranquillamente Ok Un altro boss monster Grosso grosso Ok Va bene Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti Ciao